Kate, duchessa di Cambridge, avrà molto da fare mentre rimane in autoisolamento a Kensington Palace. Kensington Palace ha annunciato ieri che la duchessa di Cambridge è attualmente sottoposta a una quarantena di dieci giorni dopo essere stata probabilmente esposta al Covid-19. Una breve dichiarazione del palazzo recita. La scorsa settimana la duchessa di Cambridge è entrata in contatto con qualcuno che è risultato positivo al test per il Covid-19. Sua altezza reale non sta riscontrando alcun sintomo, ma sta seguendo tutte le linee guida del governo pertinenti e si sta autoisolando a casa. Punto. La duchessa è stata completamente vaccinata contro il Covid-19. Resta inteso che normalmente si sottopone a un rigido regime di test come membro della Casa Reale e prima di partecipare agli impegni. Kate è stata informata del suo contatto venerdì pomeriggio e ha subito iniziato la sua quarantena. Di conseguenza, ieri il duca di Cambridge ha dovuto realizzare gli eventi previsti per celebrare il 73esimo anno del solo NHS. Ciò significa anche che Kate sarà costretta a saltare la finale di Wimbledon di domenica, un evento a cui l'amante del tennis partecipa ogni anno. Punto. Tuttavia, una fonte ha affermato che la duchessa di Cambridge raggiungerà Wimbledon guardando le partite in TV. Notando che questo sarà il secondo anno consecutivo che la duchessa non può guardare la finale di persona a causa del Covid, la fonte ha detto al Sun. Kate ama il tennis. Le piace molto andare a Wimbledon, quindi sarà un duro colpo che non possa tornare anche quest'anno. Lo seguirà in TV come il resto di noi. Kate salterà anche un altro evento sportivo chiave dell'estate. La semifinale di Euro 2020 allo stadio di Wembley, dove l'Inghilterra affronterà la Danimarca domani. Mentre l'amante dello sport Kate trascorrerà sicuramente parte del suo tempo in quarantena guardando il calcio e il tennis, potrebbe anche tenersi occupata a cucinare per la sua famiglia. Dopo essersi trasferiti a Kensington Palace nel 2013, Kate e William hanno pagato circa 170.000 sterline per una seconda cucina di famiglia, che ora potrebbe essere l'ideale per la duchessa se vuole preparare i pasti senza entrare in contatto con il resto della famiglia. La fonte ha detto. Kate è una vera persona di famiglia. Grazie a tutti.